E' sufficiente censire i tantissimi vendesi esposti per le strade ormai senza soluzione di continuità per comprendere che la crisi immobiliare che colpisce ovunque in Italia e dal sud in particolare è il risultato di una situazione critica che si porta avanti ormai da troppo tempo senza la volontà politica di risolverla. E' stato questo uno dei punti forti dell'incontro dibattito dal significativo titolo Casa e Bottega Quale Futuro che la Biblioteca Comunale di Vibo Valenzi ha messo a confronto il Presidente Nazionale della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa e della parlamentare Daniele Capezzone. L'incontro ha posto l'accento sulla questione profonda di una crisi del mattone provocata dalle soluzioni vessatorie che i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno utilizzato per fare cassa colpendo essenzialmente le famiglie italiane che hanno sempre considerato la casa come un bene rifugio. Purtroppo è diventata un peso in molti casi, soprattutto quando si tratta di immobili che erano da investimento nel senso che i proprietari vanno acquistati per metterli a reddito, come si dice, affittarli, darli in locazione oppure quando vengono ereditati. In tutti questi casi gli immobili sono un peso e sono peraltro non più commerciabili in molti casi. Quindi c'è un mercato immobiliare che si limita alla prima casa in questo periodo e quindi anche e soprattutto per via della tassazione introdotta a partire dal 2012 c'è un problema grave del settore immobiliare dato appunto dall'eccesso di fiscalità. Qual è il bene che l'80% delle famiglie italiane ha? La casa di proprietà, a volte anche una seconda piccola casa al mare o in montagna che non può essere criminalizzata o presentata come un lusso. Qual è il bene che dal 2011 in poi è stato più massacrato di tasse? Esattamente la casa, la proprietà immobiliare. Allora io mi permetto di dire che un serio spartiacque per valutare la serietà delle forze politiche nei prossimi mesi è vedere chi vorrà, ma non a chiacchiere, davvero ridurre la tassazione immobiliare. sulle seconde case, sugli immobili strumentali alle imprese, negozi, botteghe artigiane, capannoni industriali, studi professionali, questa è la via per ridare fiducia alle famiglie, per ridurre una tassazione sugli immobili che è francamente eccessiva e anche per aiutare un recupero di valore di un patrimonio immobiliare che è stato depreciato anche a causa di queste tasse.